La Divina Commedia, Inferno, canto 26, la prima parte. Allora, prima di parlare del canto 26esimo, diciamo qualcosa su quello che avviene dal 19esimo al 26esimo. Infatti noi ci siamo fermati alla terza bolgia, la terza bolgia è quella dei simoniaci. Abbiamo finito di leggere insieme il 19esimo canto. Vi ricordate i simoniaci, gli ecclesiastici che hanno sfruttato la loro posizione per arricchirsi, per arricchire sé e la propria famiglia. Capovolti nelle fenditure delle pareti rocciose del fondo della terza bolgia, i loro piedi rimangono fuori dalla buca e bruciano perché delle fiamme lambiscono le palme di questi piedi. Andiamo avanti. La bolgia... chi è che sta parlando? Sono stupato. Oltretutto non si può mangiare e bere in classe durante la... Consumate bevande e cibi fuori dall'aula. Lo sapete, è una regola. Durante l'intervallo, comunque in generale fuori dall'aula. Allora... La quarta bolgia è la bolgia dei maghi e degli indovini. L'anno scorso ho spiegato in classe il canto ventesimo dell'inferno, bellissimo. Si muovono in cerchio i maghi e gli indovini, 4-4-9. Ha ritroso lentamente, senza parlare, mentre il corpo è sottoposto a un'impressionante deformazione. Il collo è torto in modo che il viso è girato verso le reni. Quindi camminano ma con la testa rivolta indietro. Insomma, loro, gli indovini, pensavano di vedere il futuro, no? Adesso invece continuano a guardare dietro di sé. Ma quindi è comunque un po' di grande gli indovini come a quelli che hanno studiato in... A ripetere che gli indovini delle neide... Gli indovini delle neide? Gli indovini delle neide... Ma per la prospettiva cristiana medievale di Dante, sono degli ingannatori. Ingannavano gli altri. E quindi dei truffatori. Pertanto sono una delle varie categorie dei fraudolenti. La quarta categoria. La quinta categoria è quella dei barattieri. Lucchesi, mamma mia, sono tutti i barattieri. Truffatori politici che hanno approfittato delle cariche pubbliche per trarne illeciti guadagni. Sono attuffati nella pece bollente. E qui abbiamo alcuni dei canti più, come dire, più pittoreschi della Divina Commedia. Perché ci sono questi diavoletti che devono infilzare questi barattieri e costringerli a stare nella pece bollente. E insomma, sono dei diavoli un po' pittoreschi perché fanno delle cose anche abbastanza grossolane. Insomma, come scorreggiare. Lo dice proprio Dante nella... Quando c'è la quinta bolgia, c'è il famoso verso, col culfe c'è trombetta, no? Riferito a uno di questi diavoli. Bene. Passiamo alla sesta bolgia. La sesta bolgia è la bolgia degli ipocriti, che camminano molto lentamente, impregionati dentro enormi cappucci frateschi, d'oro all'esterno ma di pesantissimo piombo. Infatti, gran parte di questi ipocriti sono frati. Nel senso che Dante diceva questo. I frati dicono una cosa, poi ne fanno un'altra, insomma, no? Calpestano altri ipocriti stesi a terra, crocifissi contro tre pari di legno. Si tratta di Caifa, sommo sacerdote, il suo acero Anna, gli altri membri del Sinedo che condannarono a morte Cristo, detti ipocriti, perché addussero delle motivazioni, diciamo, infondate per la condanna a morte di Cristo. Passiamo alla settima bolgia. La settima bolgia è la bolgia dei ladri. Nudi, molti serpenti cingono il loro corpo e bloccano le mani. Sono spogliati della stessa natura umana tramite raccapriccianti metamorfosi. Ecco, ne riparlerà comunque anche all'inizio del ventiseisimo canto e vedremo che ci sono parecchi fiorentini, no? Tra questi ladri. Come dire, i lucchesi sono barattieri. I frati sono ipocriti, i papi sono simmoniaci e i fiorentini sono ladri. E così cominceremo proprio il ventiseisimo canto con un'invettiva ironica, cioè con un'ironia, diciamo così, un'apostrofe. Un'apostrofe vuol dire quando il poeta si rivolge a qualcuno. In particolar modo si rivolge a Firenze e dice, godi Firenze, no? Perché, dice ironicamente, perché io ho trovato lì nella settima bolgia alcuni dei tuoi figli, appunto alcuni dei fiorentini. Passiamo adesso a spiegare l'ottava bolgia, che è quella che ci interessa di più, perché noi leggeremo adesso un canto relativo all'ottava bolgia. C'è la bolgia dei consiglieri fraudolenti. Posero la loro intelligenza non a servizio della verità, ma della frode e dell'inganno. Hanno ingannato gli altri con i loro consigli, con le cose che hanno detto, che erano false. Pertanto sono avvolti da fittissima nebbia e in questa nebbia lampeggiano delle fiamme in cui sono trasformate quelle anime di questi consiglieri fraudolenti, sono diventate se stesse fiamme. E noi incontreremo Ulisse che è dentro una fiamma, una fiamma biforcuta, perché insieme a lui c'è l'amico di inganni, l'amico di frodi, cioè di Omede, quello con il quale, insomma, no, Giovanni delle Bandenere, non c'entra, è un mercenario. No, Giovanni Bandenere. Ah, è un mercenario Giovanni delle Bandenere. Ecco, dicevamo, con cui aveva compiuto tanti inganni, tante frodi, tante sortite, che appunto di Omede saranno insieme Ulisse e di Omede. Diciamo qualcosa anche sulle ultime bolge che noi non studieremo approfonditamente perché la prossima volta leggeremo, la volta dopo leggeremo già del nono cerchio, cioè quello dei traditori. Nella nona bolgia i seminatori di discordi e di scismi sono mutilati orribilmente dalla spada di un demonio, le loro ferite si rimarginano durante la lenta processione, e tra questi Dante mette Maometto, nel senso che lui riteneva il musulmanesimo una sorta di scisma, di religione scismatica, diciamo così, che parte dal cristianesimo ma poi va per una sua strada completamente diversa. La decima bolgia è quella dei falsari di metallo. Falsari di metalli, falsari di persona, monete, parola. I primi sono martoreati dalla scabbia e dalla lebra, i falsari di metallo, ricoperti di ripugnanti crosse tormentate da un fastidioso prurito che le obbliga a straziarsi le carni nell'illusorio intento di trovare sollievo. Coloro che hanno falsificato la persona, invece, devono correre in preda a smania e furiosa, addentrano gli altri compagni di sventura. Ah, quindi hanno fatto i sosia e hanno ingannato qualcuno facendosi spacciare perché fossero qualcun altro, presentandosi come se fossero qualcun altro. Quelli che hanno falsificato la moneta restano immobili, colpiti dall'idropisia che li deforma con il ventre ingigantito. Quelli che hanno falsificato la parola sono arsi da febbre così alta che il loro corpo emana vapore e puzzo di unto bruciato. Quindi, come vedete, si scaglia Dante contro chi snatura la realtà, la modifica, falsifica le cose. Abbiamo visto prima di Ipocriti, i frati, e qui vediamo tutte queste altre categorie nell'ultima delle bolge. Dopodiché si passerà nel nono cerchio, che è quello dei traditori, cioè di quelli che ingannano chi si fida di loro. Mentre nell'ottavo cerchio, dei fraudolenti, i fraudolenti ingannano quelli che non si fidano di loro, ma riescono lo stesso a ingannarli con la loro astuzia. Oh, questo che andiamo a leggere è il canto di Ulisse. Come vedremo adesso, come semplice introduzione, diciamo che il canto di Ulisse è molto controverso, nel senso che i commentatori, gli studiosi, eccetera, diciamo che hanno interpretato questo personaggio dell'Ulisse dantesco, che è molto diverso dall'Ulisse omerico, l'hanno interpretato in tre modi almeno. Alcuni hanno detto, è un magnanimo, che non merita di essere dannato per sempre, e quello che lui dice, vedremo nella seconda parte del canto, quella che spiegheremo la prossima volta, quello che lui dice è testimonianza di questa grandezza d'animo. La seconda schiera di interpreti invece dice al contrario che Ulisse è un ingannatore, un fedifrago infedele. Allora, probabilmente, diciamo che, come sempre, il giusto sta nel mezzo, nel senso che è un ingannatore, è un fedifrago infedele, e per alcuni motivi e inganni che ha fatto, soprattutto, dicevamo con il suo amico Dionede, è giusto che sia qui, nella ottava bolgia dei consiglieri fraudolenti, punito per sempre. Ma, nello stesso tempo, è anche vero che è stato un uomo grande, che rappresenta la sete di infinito, e che ha cercato di raggiungere questo mistero e questo infinito. È arrivato sulla soglia, potremmo dire, della conoscenza di questo mistero e di questo infinito, quando si è avvicinato addirittura alla montagna del purgatorio. Ma poi, dal momento che questo era stato un suo progetto, che aveva organizzato da sé, da solo, e non era stato Dio a condurlo lì, come invece avviene, dice il poeta cristiano Dante, grazie alla rivelazione di Cristo, allora è logico che non ha potuto raggiungere la grazia da solo. E per questo motivo, quindi, la sua navola, la sua barca, è fondata proprio quando era in vista della montagna del purgatorio. Abbiamo introdotto questo canto, è arrivato il momento, adesso finalmente, di iniziare a leggerlo. Ecco, qui vedete la raffigurazione della cavità infernale e il punto in cui ci troviamo. Diciamo, a cavallo fra la settima e l'ottava bolgia. Perché abbiamo detto che si comincia ricordando un po' la settima bolgia, cioè ricordando la bolgia dei ladri, la bolgia precedente. Godi, Fiorenza, poiché se si grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Perché è ironico, no? È ironico perché è vero, effettivamente, che il nome di Firenze è diffuso in tutto il mondo, soprattutto all'epoca. Firenze era una delle città più importanti del mondo. Ricordate, come abbiamo visto quel video, si diceva che a Firenze c'era più ricchezza che nell'intera Inghilterra, no? Ecco, quindi per mare e per terra batti l'ali. Ecco, nel senso che, per esempio, i mercanti fiorentini, e poi abbiamo visto i banchieri, i notari, eccetera, sono conosciuti in tutto il mondo. Ma dice, per l'inferno tuo nome si spande. Cioè si parla di te, si parla di Firenze, anche in tutto quanto l'inferno. E in particolar modo, dicevamo, nella bolgia precedente, cioè nella bolgia settima. Tra l'iladron trovai cinque cotali, tuoi cittadini, onde mi ven vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Quindi io, in mezzo ai ladri, quindi a quelli puniti, dicevamo, in questa settima bolgia, trovai cinque tuoi concittadini, cotali, cinque tali, insomma, tuoi concittadini, per cui mi vergogno, perché anche io sono fiorentino, e Dante non può dimenticarselo questo, no? E anche tu, cara Firenze, non sali in grande onore, no? Per il fatto di avere dei ladri, no? Nella linea, nel fondo dell'inferno. Certo, onicità ha dei ladri, ma, siccome, come abbiamo visto, sin dall'inizio dell'inferno, l'avidità, l'avarizia, che vuol dire proprio nel linguaggio medievale, vuol dire l'avidità, regnava sovrana a Firenze, è chiaro che a Firenze ce ne sono più che altrove. Godi Fiorenza, poiché sessi grande, dicevamo un apostrofe, a Fiorenza, è anche un'antifrasi, che è una figura retorica, che vuol dire praticamente un'ironia. Cioè, quando dici una cosa, me ne pensi un'altra. Cioè, godi Fiorenza, come dire... Paffo, una domanda. La differenza tra ironia e sarcasmo? Cioè, oggi ci chiedevamo... Ah, sì, sì. Ma, il sarcasmo è una sorta di ironia amara, nel senso che è sempre... il sarcasmo è sempre ironico, si parte da un'ironia. Ma è chiaro che il fine cui giunge il sarcasmo è quello di piuttosto di stimatizzare, cioè, voglio dire, quindi quello di colpire in modo molto duro e aspro. Oh, maledizione! ci dobbiamo sempre ricordare di tenere accesa qua la... di toccare... questa è una cosa che non mi avviene con le altre limme. Io le altre limme posso anche parlare per un quarto d'ora senza toccare la limme, che non succede... ecco, sì. Verifichiamo questa cosa qua. Cioè, cerchiamo di togliere l'impostazione di spegnimento automatico dopo cinque minuti, perché il prof. Gaudio parla per un'ora, no per cinque minuti. no, 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 assolutamente. Avete capito quindi quando è il sarcasmo? Quando io voglio colpire qualcuno e quindi l'ironia serve proprio per farmi vedere com'è desolante una situazione, una condizione, com'è riprovevole. Insomma, il sarcasmo ha a che vedere con lo sdegno. Lo sdegno viene espresso in quel modo un pochettino ironico. Allora, avete acceso questa Benedetta Lim qua? Sì o no? Ah, già, è vero. Ah, ecco, sì. Attenzione. Questa frase qui, Godi Fiorenza, si riferisce a una scritta del Palazzo del Bargello che esaltava la potenza di Firenze per mare e per terra. Cioè, il palazzo... Non so se siete mai stati al Bargello, al Palazzo del... Ecco, sì, sì, guarda che c'è adesso. Adesso è andata, andata. No, no, no. Ok, ok, no, non si spegne. Se andate a visitare a Firenze il Palazzo del Bargello, vi faranno vedere che oltretutto quel palazzo è anche un palazzo in cui si mettevano a morte le persone, no? Oppure era anche prigione il Bargello. Comunque, su questo palazzo c'era una bella scritta in cui si diceva insomma che Firenze governava sul mondo... Ecco, Que mare, Que terra, Que totum possidet orbem. Vuol dire Firenze che governa, possiede, possidet, il mare, la terra e tutto quanto il mondo. Ecco, è evidente qua quindi l'intento ironico di Dante con questo incipit del ventisesimo canto. La città di Firenze è spazio in Pierosa sul mare e sulla terra ma ci sono come abbiamo visto dei dannati ladri nell'inferno. Il canto si apre e si chiude con immagini tratte dalla navigazione per mare e dal volo batti l'ali. Ecco, quindi ciclicamente vedremo qua per mare e per terra batti l'ali ci farà venire in mente quello che spiegheremo la volta prossima il folle volo cioè la navigazione di Ulisse oltre le colonne ed Ercole alla volta della addirittura del mondo sconosciuto. La navigazione è metafora anche della scrittura per i medievali quindi molto importante. Ma se presso al mattin del ver si sogna tu sentirai di qua da piccolo tempo di quel che prato non caltri tagogna. Ecco, dicevamo che è vero anche questa è un po' un'ironia che diventa sarcasmo e invettiva perché? Perché Dante se la prende tantissimo con la città che ovviamente lo sappiamo l'ha esiliato e dice presso il mattin del versi sogna cioè vuol dire quei sogni che si fanno al mattino poco prima di svegliarsi sono quelli veritieri. Tu proverai fra breve tempo le sventure che Prato e gli altri tuoi nemici ti augurano. Ecco, Prato a che cosa ci si può riferire? Probabilmente al cardinale Niccolò da Prato che fu mandato per pacificare i fiorentini bianchi e neri eccetera ma i fiorentini non avevano nessuna intenzione di pacificarsi fra di loro quindi trattarono in malo modo questo cardinale da Prato e quindi Prato e tante altre città probabilmente desiderano la distruzione di Firenze e quindi tu sentirai proverai le sventure che gli altri ti augurano era diffusa la credenza nel Medioevo che i sogni che si fanno all'alba sono i più veritieri e se già fosse non sarebbe per tempo e quindi se già Firenze fosse stata distrutta o quantomeno avesse subito le pene per tutti i peccati che si compiono dentro la città non sarebbe troppo presto questo se è un valore anche ottativo desiderativo come dire magari fosse accaduto magari finalmente arrivasse questa benedetta punizione dei malvagi cittadini fiorentini così fossei ah c'è anche proprio il così fossei quindi questo desiderativo si riferisce più che altro al verso 11 da che pur esser de' è così che deve succedere che più mi graverà con più ma tempo dal momento che questa punizione più mi sarà grave le disgrazie di Firenze più mi saranno gravi quanto più ma tempo quindi quanto più io invecchio quanto più tempo passerà perché proprio Prato? perché Prato desidererebbe la punizione di Firenze? anzitutto perché Prato deve subire l'egemonia fiorentina quindi si augura un triste destino per Firenze e poi perché come vi ho spiegato il cardinale Nicolò da Prato ha fallito non è riuscito a raggiungere l'arbitrato quindi la conciliazione il compromesso fra le parti bianche e neri e scaglia la sua maledizione contro i fiorentini una volta che non è riuscito nel suo intento noi ci partimmo come dire quindi noi ce ne andammo dalla settima volgia e su per le scalee che ne avea fatto i borni a scendere pria rimontò il duca mio e trasse me che vuol dire noi ce ne andammo salimmo quindi scesi dalla testa del ponte tra la settima e l'ottava volgia ora risalgono sull'incrocio del ponte con l'argine su per quelle scalee quindi queste salite insomma che ci aveva resi i borni ecco i borni potrebbe avere tantissime interpretazioni per esempio ci aveva fatto impallidire perché era molto ripido fatto i borni cioè pallidi come l'avorio no oppure lo scendere le scale le scalee ci aveva fatti pallidi oppure i borni le sporgenze della roccia riferito alle sporgenze ci aveva fatto ci avevano creato dei bozzi insomma è un'espressione questa parecchio controversa rimontò il duca mio e tra semestre di fatto comunque che Virgilio sale e conduce con sé Dante e proseguendo la solinga via tra le schegge tra i rocchi dello scoglio lo pie lo pie senza la man non si spedia e quindi salendo attraverso questa parete scoscesa della bolgia non era possibile salire solamente con i piedi occorreva aiutarsi anche con le mani in mezzo alle schegge e i rocchi dello scoglio notate anche da un punto di vista fonico le parole che utilizza Dante rappresentano proprio la sprezza anche del paesaggio la salita non è facile il peccato dell'intelligenza male utilizzata rende difficile il cammino la via il percorso dell'uomo la fatica dice Dante ci aveva resi bianchi come l'avorio cioè pallidi per la paura e questa comunque è l'interpretazione più comune e che noi accogliamo del termine i borni allora mi dolsi e ora mi ridolgo mi ridoglio anzi cioè io ho provato dolore ho provato compassione e provo lo stesso sentimento anche adesso che sto ricordando quando drizzo la mente a ciò che io vidi quando quindi indirizzo la mente cerco di ricordare quindi con la memoria quello che ho visto e più lo ingegno a freno chi non soglio in questa in questa situazione quindi tengo a freno l'ingegno più di quanto non sia solito fare perché non corra che virtù non guidi infatti è necessario che qui è una riflessione dicevamo sull'intelligenza l'intelligenza quando è male usata l'abbiamo visto appunto con i fraudolenti insomma con i dannati di questo di questo ottavo cerchio diciamo che si disvia va lontano dalla giusta strada ecco il motivo quindi che è necessario che sia la virtù a guidare l'ingegno affinché non corra appunto l'ingegno l'intelligenza senza la guida della virtù allontanandosi quindi dalla retta via sicché se stella buona o miglior cosa mi ha dato il ben che io stesso non mi invidi in modo tale che se il benevolo è il flusso degli astri la stella buona o la grazia divina la miglior cosa mi ha dato l'ingegno mi ha dato il bene dell'intelletto io stesso non me ne privi cioè non me lo renda vano abusando col cattivo uso e quindi andando a finire anch'io dopo la morte in queste bolge dell'ottavo cerchio dove ci sono quelli che hanno appunto usato male del loro del loro bene dell'intelletto la buona stella di Dante la riete la costellazione della riete lo ripeterà ancora nel corso della divina commedia l'ha dotato di intelligenza quindi l'ha indirizzato su una buona strada ma lui dice più l'ingegno a freno è necessario tenere a freno l'intelligenza nel senso che l'intelligenza potrebbe essere fuorviante se non tenuta a freno anche questo è anticipazione dell'incontro con Ulisse il quale si è portato al di là dei confini ha superato le colonne d'Ercole vedremo la prossima volta ha con il suo ingegno con la sua intelligenza progettato di raggiungere il mistero di raggiungere Dio ma questo non è possibile perché è una prospettiva cristiana non è l'uomo che riesce a raggiungere con i suoi sforzi Dio ma è Dio attraverso la rivelazione che si rende presente e visibile insomma all'uomo quanto il villan calpoggio si riposa nel tempo che colui che il mondo schiara la faccia sua a noi ti è meno a scosa come la mosca cede alla zanzara vede lucciole giù per la vallea forse colà dove i vendemmia e ara è la prima parte di una similitudine attraverso questa similitudine Dante ci vuole far capire com'era la scena del fondo dell'ottava bolgia il fondo dell'ottava bolgia è tutto pieno di fiamme e quindi lui fa questa questo paragone questa similitudine come il villano quindi il contadino che al poggio si riposa che si riposa su un'altura nel tempo che colui che il mondo schiara chi è che schiara chi è che illumina il mondo il sole no la faccia sua a noi ti è meno scosa qual è la stagione dell'anno in cui il sole è meno nascosto nasconde di meno la sua faccia l'estate quindi come il villano che d'estate come la mosca cede alla zanzara una sera d'estate per dire la sera d'estate siccome in genere in estate di giorno rompono le scatole le mosche mentre di sera ci sono le zanzare che ci pungono ecco quindi dice durante una sera d'estate come la mosca non appena la mosca cede alla zanzara non appena quindi arrivano le zanzare no a pungerti o a cercare di pungerti durante le sere d'estate come dire di sera di notte eccetera vede lucciole giù per la vallea che il contadino una volta vedeva le licciole oggi se ne vedono sempre di meno non so se vi è mai capitato di vederle forse colà dove vendemmia e ara cioè esattamente nello stesso posto in cui lui durante il giorno vendemmia cioè fa il suo lavoro appunto di contadino riesce a vedere durante le sere d'estate delle lucce certo quando la natura è ancora un pochettino non era inquinata insomma oggi come oggi se ne vedono abbastanza raramente di lucce come il contadino che dall'alto di un'altura dove sta riposando di sera di notte d'estate vede delle lucciole così allo stesso modo io e Virgilio vedevamo delle luci che erano appunto le fiamme del fondo dell'attava bolgia il fuoco calidus avvolge il furbo calidus ecco andiamo a spiegare adesso qual è la pena dei consiglieri fraudolenti l'anima dei consiglieri fraudolenti è totalmente avvolta da una fiamma tanto che insomma in un certo senso sono trasformati in una fiamma ecco questo ha a che vedere con l'origine latina del termine callidus cioè del termine furbo furbo in latino si diceva callidus quindi molto simile al termine latino calidus da qui l'italiano caldo no che appunto indica il fuoco insomma il fuoco avvolge il furbo perché essi i furbi insomma hanno hanno infuocato l'anima degli ingannati che hanno consigliato ah sì questi consiglieri fraudolenti sono lì puniti perché hanno dato dei consigli falsi appunto ingannando gli altri no e così come si hanno infuocato l'anima degli ingannati per esempio pensate le spie le delazioni quando si convince qualcuno che qualcun altro ha fatto qualcosa o ha detto qualcosa contro di lui noi cosa facciamo infiammiamo le altre persone allo stesso modo quindi loro adesso sono circondati dalla fiamma la pena dei consiglieri fraudolenti viene presentata attraverso due similitudini la prima è quella delle lucce che abbiamo visto nella sera d'estate di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia siccome io m'accorsi tosto che fui là vel fondo parea ecco esattamente come per esempio il luogo dove il contadino lavora di giorno si riempie di sera di luce lui le vede dall'alto allo stesso modo di tante fiamme di altre tante fiamme luci fiamme risplendeva tutta quanta l'ottava bolgia il fondo dell'ottava bolgia siccome io mi accorsi così come io mi accorsi mi accorsi di questo non appena fui là ecco quindi una volta raggiunto il ponte che sovrasta la bolgia fui là dove appunto si vedeva il fondo e qual colui che si vengiò con gli orsi vide il carro dell'ial di partire quando i cavalli al cielo erti le vorsi è una seconda similitudine abbiamo già detto c'è un'altra similitudine per indicare insomma queste anime infuocate dei consiglieri fra due lenti la similitudine questa volta è presa dalla Bibbia infatti qua si parla di colui che si vengiò con gli orsi ecco è accaduto questo episodio un certo Eliseo si narra a un certo punto nella Bibbia era stato preso in giro da dei giovinastri perché questi giovinastri dicevano che lui era calvo state molto attenti a prendere in giro qualcuno che è calvo perché potrebbe succedere quello che è successo a Eliseo e a questi ragazzi infatti Eliseo che era un profeta di Dio invocò l'aiuto di Dio il quale fece venire degli orsi che si sbranarono no stavo dicendo così in generale state attenti no no per carità e quindi in questo modo quei ragazzacci furono puniti dagli orsi allora e come Eliseo che è invece di dire il suo nome c'è tutta questa perifrasi colui che si vendicò con gli orsi adesso vi ho spiegato anche perché eventualmente andrete poi a leggere il quarto libro dei re della Bibbia per conferma di questa storia e come Eliseo vide il carro di Elia al dipartire vide il carro di Elia infatti si narra che mentre il profeta Eliseo insieme ad Elia camminavano oltre Giordano un carro di fuoco con cavalli di fuoco li separò Elia salì portato da un turbine in cielo Eliseo lo vedeva e gridava poi non lo vide più ecco quindi a cosa ci si riferisce a questo passo della Bibbia dell'Antico Testamento quando Eliseo vide un carro infuocato con dei cavalli di fuoco portare via Elia e condurlo al cielo Eliseo si vendicò con gli orsi nel senso che due orse divorarono una quarantina di bambini che lo prendevano in giro per la calvizia il dio del Vecchio Testamento punisce in modo molto severo mai prendere in giro chi è calmo non potete immaginarvi cosa potrebbe succedere che non potea si con gli occhi seguire ecco a un certo punto Eliseo vede Elia andare in alto portato nel cielo da questo carro infuocato a un certo punto non lo vede più come quando noi vediamo non so delle lanterne avete mai assistito a quelle come dire a quegli spettacoli in cui si lanciano delle lanterne illuminate nel cielo ecco per un certo periodo di tempo riusciamo a intravederle nel cielo e poi scompaiono la vista che non poteassi con gli occhi seguire che vedesse altro che la fiamma sola a un certo punto non vede più non distingue più Elia il carro e tutto quanto ma vede solamente una fiammella in alto che si sta liberando si come nuvoletta in su salire tal si muove ciascuna per la gola del fosso così ciascuna anima di consigliere fraudolento si muove nel fondo della la gola del fosso il fondo dicevamo della volgia ottava che nessuna mostra il furto cioè nessuna fiamma fa vedere l'anima che c'è dentro e ogni fiamma un peccatore invola e ogni fiamma include in sé racchiude in sé un peccatore avete delle cose da dire vedo che avete molto molto da dire da chiacchierare fra di voi intervenite non abbiate paura a intervenire no involare significa anche nascondere e anche rubare nel toscano fiorentino se ricordate per esempio in boccaccio imbolare un porco quando rubano gli amici di Calandrino rubano un maiale si muove ciascuna per la gola del fosso e così non si intravede l'anima che c'è dentro Eliseo guarda il carro di Elia che ascende verso il cielo e diventa ormai sempre più lontano diventa una semplice fiamma nel cielo le capacità profetiche di Elia si trasferiscono ad Eliseo così come la capacità di viaggiare si trasferisce da Ulisse a Dante e si completano Ulisse e Dante così come si completano Elia ed Eliseo nell'Antico Testamento oh allo stesso modo si completano Ulisse e Dante e così il viaggio di Ulisse è prefigurazione di quello che sarà il viaggio di Dante e il viaggio di Dante è completo perché il viaggio di Ulisse si interrompe a un certo punto perché frutto semplicemente della capacità umana io stava sopra il ponte a vedere surto sì che se io non avesse un ronchion preso caduto sarei giù sanz'essere urto che vuol dire io stavo sopra il ponte stavo dritto in piedi proteso a guardare sopra il ponte talmente preso da questa scena che vedevo sotto di me che se non mi fosse aggrappato ad un masso sarei caduto giù senza che nessuno mi urtasse senza essere urtato è il duca che mi vide tanto facciamo una bella cosa o parlo io o parlate voi mettiamoci d'accordo è il duca cioè la mia guida cioè Virgilio che mi vide tanto atteso che mi vide così intento e concentrato disse come dire chi sono cosa sono queste fiamme che vedo nel fondo della volgia allora lui soddisfece al mio desiderio disse dentro dai fuochi sono gli spiriti cioè le anime sono dentro quei fuochi katun si fascia di quel che gli è inceso vuol dire quindi che ciascuna delle anime è fasciata dalla stessa fiamma da cui è arsa da cui è incendiata in vita loro agitavano la lingua sempre parlare sempre chiacchierare agitare la lingua per ingannare gli altri dopo la morte adesso si agita per sempre la lingua di fuoco nella quale sono trasformati anche qui ritorna il fuoco come vi ricordate nel canto diciannovesimo ecco i simoniaci il fuoco è contrapposto al fuoco che scende sulla testa degli apostoli durante la pentecoste l'abbiamo visto soprattutto come simoniaci quindi simoniaci fuoco sulla testa scusate gli apostoli fuoco sulla testa lo spirito santo invece i simoniaci fuoco ai piedi e qui anche ritorna il fuoco maestro mio risposio per udirti sono io più certo per il fatto che ti ho ascoltato adesso ho capito che cosa sono quei fuochi ma già mi ero avviso che così fosse però l'avevo già un po' intuito che fosse così e già voleva dirti e già io volevo quindi diciamo prima persona singolare io già volevo dirti chi è in quel fuoco che vien si diviso di sopra che par surger della pira dove teocle col fratel fumiso chi è quel fuoco ho notato che tra i tanti fuochi singoli nel fondo della bolgia ce n'è uno doppio che assomiglia molto a quel fuoco nel quale sono bruciati i due fratelli che non si potevano vedere l'un con l'altro Eteocle e Polinice erano due fratelli cui era stato affidato il regno di Tebe e dovevano alternarsi un anno ciascuno a governare la città di Tebe ma Eteocle dopo il suo anno non aveva nessuna intenzione di lasciare il potere al fratello e così scoppiò la guerra dei sette contro Tebe e lui dice e siccome poi sono stati bruciati insieme e siccome erano talmente come dire in vita non potevano vedersi fra di loro non potevano sopportarsi anche in morte quando sono stati bruciati insieme il rogo si è dipartito cioè si è diviso come se fossero due fiamme separate capite ecco quindi che lì c'è una fiamma bipartita esattamente come la fiamma dove bruciarono insieme Eteocle e Polinice e io vorrei sapere dice Dante chi è in quel fuoco chi si trova in quel fuoco particolare la pira di Eteocle e Polinice unisce nella morte secondo una versione del mito i due fratelli che tanto si erano odiati in vita da notare che come erano sempre stati divisi in vita così anche quando i loro fuochi bruciano insieme dei loro corpi volevo dire bruciano insieme le lingue di fuoco saranno comunque divise rispose a me là dentro si martira Ulisse e Diomede cioè in quella fiamma bipartita biforcuta scontano la loro pena Ulisse e Diomede famosi eroi greci che come ben sappiamo hanno partecipato alla spedizione contro la città di Troia e così insieme alla vendetta vanno come all'ira vanno insieme alla vendetta per vendicare insomma per punire perché siamo puniti i loro peccati così come vanno insieme all'ira ci si riferisce qua la giustizia di Dio insomma sono come vedete Ulisse e Diomede uniti incontro all'ira divina così uniti ora subiscono la giustizia punitrice di Dio e dentro dalla loro fiamma si geme l'agguato del cavallo che fe la porta onde uscì dai romani il gentile seme quindi anzitutto loro si trovano lì per scontare l'inganno il primo inganno che hanno fatto o meno di cui ci si ricorda e si ricorda Virginio è quello del cavallo di Troia cioè l'agguato del cavallo che fe la porta cioè che permise ai guerrieri greci di entrare dentro la città di Troia onde uscì dai romani il gentile seme da cui venne la discendenza romana sappiamo infatti che Enea e altri suoi compagni troiani costretti a scappare dalla città di Troia appunto occupata dai greci grazie all'inganno del cavallo giunsero poi dopo tante peripezie nel Lazio come racconta l'Eneide di Virgilio da cui il gentil seme si intende quindi la discendenza nobile di Enea per esempio della gensi Giulia come si narra nell'Eneide l'astuzia ingannatrice di Ulisse si lega anzitutto allo stratagemma del cavallo di Troia di cui si parla ad esempio nel secondo libro dell'Eneide piangevi si entro l'arte perché morta dei da mia ancorsi duol d'Achille e del palladio pena vi si porto ecco Ulisse era molto furbo una delle dimostrazioni di furbizia di astuzia Ulisse la mostrò quando andò sull'isola di Sciro dove si trovava Achille era ovviamente come sappiamo un guerriero un eroe formidabile era importantissimo quindi che partecipasse anche lui alla spedizione contro Troia Ulisse e Diomede andarono insieme appunto a cercare Achille a portarlo insomma a combattere contro la città di Troia però Achille insomma era nascosto lì dalla madre la madre Teti non voleva assolutamente che Achille andasse a combattere perché sapeva una profezia le aveva detto che se andava a combattere contro la città di Troia lì avrebbe incontrato anche la morte e infatti Paride poi lo ucciderà lo colpirà il famoso tallone Achille nel frattempo però Deidamia che era principessa insomma di quell'isola di Sciro si era innamorata di Achille e quindi desiderava che Achille rimanesse lì nel momento in cui Ulisse riuscì a smascherare Achille sì perché Achille addirittura si era messo delle vesti da donna però insomma quando riuscì a risvegliare in lui lo spirito guerriero a capire insomma che lui era Achille non era una donna e quindi a condurlo via con sé insieme con Diomede presso la la spedizione appunto dei greci Deidamia si dolse ancora si duole Deidamia ancora si duole cioè prova dolore e sofferenza per la partenza di Achille così come l'ha provata quando Ulisse è riuscito a portare via Achille dall'isola di Sciro e del palladio appena vi si porta c'era una statua dedicata a pallade Atena nella città di Troia Ulisse e Diomede fanno una sortita erano abbastanza soliti abituati a fare delle sortite cioè uscivano dal loro accampamento per compiere delle imprese una delle imprese più importanti e significative fu quella di rubare questa statua ai troiani infatti la leggenda voleva che fino a quando quella statua fosse rimasta nella città di Troia Troia sarebbe stata inespugnabile siccome Ulisse e Diomede sono riusciti a portarla via a rubarla quella statua ecco che poi la città di Troia fu occupata e distrutta Valeria Massimo Manfredi ha fatto un romanzo intitolato Palladion su questa storia del palladio eccoli quindi i tre motivi per cui Ulisse si trova lì uno per il cavallo due per l'inganno sull'isola di Sciro tre per il palladio non per il folle volo cioè la navigazione oltre le colonne d'Ercole di cui parleremo la prossima volta se possono dentro da quelle famiglie parlare di suo maestro assai ti impiego ripiego che il prego valga mille se loro possono parlare dentro quei fuochi che li racchiudono io dice Dante rivolgendosi a Virgilio chiamandolo maestro ti prego ti ripiego che prego valga mille insomma ti imploro in tutti i modi di far parlare questi anni dell'amore di Deidamia figlia di Licomede da cui era stato mandato Achille per nasconderlo parla stazio nell'Achilleide l'astuzia di Diomede e Ulisse stana Achille attratto dalle armi che ha portato furbescamente in donna Ulisse Deidamia muore poi di dolore del palladio parla Sinone sempre nel secondo libro dell'Eneide Ulisse e Diomede penetrano nella città di Troia e rubano il palladio corrompendo Enema e oltraggiando la divinità ma permettono così che Troia sia distrutta infatti fino a quando quella statua fosse rimasta in città Troia sarebbe rimasta intatta ti prego e ti prego mille mille volte che non mi facci dell'attender niego che non mi neghi quindi del mio desiderio finché la fiamma cornuta qua vegna finché insomma ci avviciniamo a questa fiamma biforcuta di Ulisse e Diomede vedi che del disio per lei mi piego vedi che ho un tal desiderio di sentirli parlare Ulisse e Diomede che mi piego verso di loro e delle a me la tua preghiera è degna di molta loda e io però l'accetto ma fa che la tua lingua si sostegna quindi io accetto il tuo desiderio mi sembra una preghiera un desiderio più che lecito però fa che la tua lingua si sostegna cioè bada a quello che stai per dire perché stai parlando con delle persone che sono di grande lignaggio di grande autorità lascia parlare a me che io ho concetto ciò che tu vuoi cioè lascia parlare a me che io ho capito quello che tu desideri che sarebbero schivi perché for greci forse del tuo detto e i greci sono un tipo un po' particolari e quindi tutte le persone che non parlavano la loro lingua per loro erano esempio dei barbari e tu che sei un cristiano medievale magari non saresti degno di essere ascoltato da loro e quindi lascia parlare a me questa volta Virgilio è padrone della scena ovviamente perché si parla di eroi greci di cui lui oltretutto narra diffusamente come già dimostrato anche oggi nella sua Eneide poiché la fiamma fu venuta qui dove parve il mio duca a tempo e loco in questa forma lui parlare leudivi dal momento che la fiamma la fiamma di Ulisse fu giunta qui dove parve giusto tempo e luogo giusto opportuno al mio duca quindi a Virgilio io ascoltai parlare lui in questo modo ma è chiaro che le parole di Ulisse le leggeremo una prossima volta la superba superiorità di cui si vantano i greci era proverbiare nel Medioevo tuttavia che un latino come Virgilio possa essere meglio accettato da un greco rispetto a un contemporaneo è stato giudicato da alcuni commentatori come una forzatura ma sì accettiamola questa forzatura e rimandiamo dicevamo alla prossima volta la lettura del canto ventisesimo dal settantanove in poi oggi siamo arrivati fino al settantotto qui